Torna bici in città. La manifestazione ciclistica organizzata dalla WISP si svolgerà domenica prossima 21 maggio. Sarà una passeggiata in città per gli amanti delle due ruote, una festa per le famiglie e un'occasione per riportare l'attenzione sulla bicicletta e la mobilità alternativa. Si ricerca la partecipazione di famiglie, bambini come negli altri anni. Quest'anno ci siamo spostati al campo scuola, forse più pratico rispetto alla passeggiata e sinceramente noi ci attrezzeremo lì per tutto il resto, per l'iscrizione, per il ristoro che faremo successivamente al ritorno delle famiglie. Speriamo che parteciperanno numerose. Noi abbiamo fatto una vasta pubblicità di volantinaggio e anche con i media abbiamo cercato di sollecitare queste famiglie a partecipare e a sollecitare l'uso della bicicletta in città che farebbe molto bene per Terni per quanto riguarda l'aria pulita. Terni è una città veramente in piano, potrebbe essere una Ferrara del centro e invece purtroppo molta gente è legata all'auto e usa molto poco la bicicletta, forse anche per paura di incidenti, probabilmente, ma soprattutto per periglizia. Noi cerchiamo di sollecitare la gente a questa cosa e all'uso delle piste ciclabili. Purtroppo non sono molte a Terni e non sono collegate abbastanza bene. Sono veramente a tratti e quindi sono anche sottoutilizzate perché la gente non è che le utilizza molto. Quindi ecco, lo scopo nostro anche quest'anno è soprattutto questo.